La filologia romanzo è il nome della rosa, ne parliamo con il regista Battiato, la prima domanda che le vorrei porre è sul campus di Fisciano, dell'Università di Studi di Salerno, che emozioni le dà? Come dicevo, ho appena detto al Rettore, quello che mi ha molto colpito è che avendo accompagnato mio figlio che studia in Inghilterra a visitare i campus inglesi, questa è la prima volta che vedo in Italia una situazione che assomiglia e che penso che il futuro degli studi universitari è questo, è un luogo, è una città di studio in cui le differenti discipline si incontrano, si possono scambiare, in cui gli studenti vivono insieme, lo trovo eccezionale, sono veramente impressionato molto, molto positivamente. Soffermiamoci invece sull'incontro di oggi, che cosa vogliamo far emergere a chi ci ascolta? Beh, questo incontro nasce da una collaborazione che il Dipartimento di Filologia e Romanza ha dato a questo progetto internazionale e da qui l'invito a venire a parlare con gli studenti di questo progetto in cui l'Università ha dato la sua collaborazione. La Filologia e Romanza in nome della rosa oggi al centro del dibattito con l'Università degli Studi di Salerno, ne abbiamo parlato con il regista Giacomo Battiato, che cosa vogliamo mettere in evidenza, lettore? Innanzitutto il piacere che la nostra Università ha accogliato il regista che ha tenuto moltissimo a questa sua presenza all'interno dell'Università, anche per dare atto che nella produzione della serie sicuramente un ruolo importante ha avuto il contributo del gruppo di ricerca di Sabrina Galano e gli altri del Dipartimento di Studi Umanistici che hanno dato un proprio contributo. Quindi è un'attestazione rispetto alla qualità delle cose che vengono prodotte all'interno dell'Ateneo, è una possibilità, perché ovviamente dialogare con produttori significa moltiplicare anche le possibilità di partenariato, le possibilità di far conoscere quella che è la nostra realtà, il nostro campus e le nostre attività e allo stesso tempo anche una gratificazione, perché ovviamente nell'aspetto più delicato essere coinvolti è assolutamente importante e diciamo allo stesso tempo ovviamente anche un modo per lanciare quelli che sono i nostri processi di ricerca e di didattica, non è un caso che poi a questa tavola rotonda di oggi partecipi anche il riferimento nazionale del Presidente della società scientifica, quindi a testimonianza poi che ovviamente non si tratta soltanto di confezionare e dare un contributo rispetto ad un prodotto televisivo di così grande importanza, ma anche ovviamente di aprire un dibattito scientifico.